Arlan ha cominciato con una macchina da scrivere arrugginita ed è diventato uno degli scrittori di gialli più venduti di tutti i tempi. Oltre 80 milioni di copie vendute. Siete appassionati? Ma in verità non leggo molti romanzi, devo dire... Molto appassionati? Sono un suo grande fan! Perché è quello là? Il signor Blanc è un investigatore privato di grande fan. È una persona famosa! A quanto sappiamo, la famiglia era riunita per festeggiare l'85esimo compleanno di suo padre. Mi sta provocando, detective. Se uno della sua famiglia l'ha ucciso... No, no, Walt. È questo che stai ipotizzando? È una supposizione molto grave. È bizzarro proprio che tu sia qui. Che ti scomodi a fare? Vaffanculo. Molto elegante. Non farei una parola che fa la smorfia di merda. Cos'è questo tono? Dovremmo farlo molto più spesso. Ognuno dei parenti ha un possibile movente. Tutti mi hanno mentito. Tu sai qualcosa. Parla. Io sospetto si tratti di omicidio. E non ho eliminato nessun sospettato. C'è soltanto una persona colpevole dietro tutto questo. Oh mio Dio. E non ho eliminato nessun sospettato. L'ho eliminato nessun sospettato. E non ho eliminato nessun sospettato. Grazie.